Il 12 settembre sono le 15.20, si è appena concluso lo speciale pillola di borsa a riunione BCE, faccio un veloce aggiornamento per quanto riguarda la nostra videoanalisi, perché? Perché le decisioni a BCE come detto sono state fortemente impattanti sui mercati, i mercati azionari, DAX, STOX, NASDAQ e S&P 500 hanno reagito immediatamente con forti rialzi, però vedete che già c'è un pochino di dubbio, sono le 3.20 quindi siamo ancora a caldo rispetto alla notizia, dubbio nel senso che c'è un pochino di ritracciamento, quindi sì, positività netta, ma vedete qualche punto di dubbio rimane, nel senso che non è continua, immediata e senza dubbi, lasciatemi dire. Si vede molto bene da questo grafico intraday del DAX, si vede molto bene dall'Eurostox, rimangono quindi gli inviti alla cautela, perché già ne parlavo questa mattina prima del, non mi ricordo se questa mattina o ieri sera, prima della riunione BCE, perché? Perché? Perché quell'assenza di volatilità, quell'attesa, si era poi in realtà tradotta in un movimento di continua inerzia rialzista, che poi ha avuto un nuovo impulso, vedete, DAX, STOX, proprio con la riunione BCE, di, sulla notizia, il taglio di tassi e del quantitative easing che prosegue e quant'altro, di un proseguimento dei rialzi. Però, e per questo ho fatto questo, e sto facendo questo aggiornamento, cui tengo molto, tra l'altro sono appena arrivato a Parigi, domani, venerdì 13 settembre, ci sarà il campionato di trading internazionale, dove rappresenterò, insieme a Davide Biocchi, i colori italiani, potrete seguirmi sui vari canali social, sarà mio dovere e avrò cura di aggiornarvi man mano con i vari risultati e ogni weekend ci sarà ancora la videoanalisi, dove avremo tutto con calma, la settimana prossima i vari appuntamenti, ma comunque voi seguite sul canale Telegram come state facendo e avrete tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Dicevamo, questa inerzia rialzista, che in qualche modo prosegue, preoccupa, diciamo, ma non troppo, cioè a dire, non dobbiamo opporci a quello che vediamo e cercare sempre, e il metodo ProStay in questo senso è utilissimo, di valutare i mercati in maniera oggettiva, al tempo presente, cioè senza fare previsioni, o meglio. Non si fanno previsioni per dire l'avevo detto, ma si fanno previsioni perché dalle previsioni si può imparare, cioè la tematica dei temi del mercato, andare a vedere come verranno svolti e trarre un feedback dagli stessi, è quello che è il pilastro e la base della metodologia ProStay. Vi faccio vedere il blog perché ci sono tantissime persone nuove che man mano stanno arrivando a seguire appunto le videoanalisi e tutto il deposito, diciamo, didattico e storico è qui sul blog di ProStay, dove trovate il libro, che è sicuramente da leggere e rileggere, i vari corsi in video, quindi una buona eredità di ore e ore di corsi video che sono ancora attualissimi, assolutamente disponibili, anche se alcuni, come il libro, hanno più di dieci anni. Insieme al Market Profile vedrete un pochino tutto il discorso legato al metodo ProStay. A proposito di didattica, quando arriviamo a 500 membri del canale ci sarà un regalo didattico reale per tutti gli iscritti, quindi continuate a diffondere le varie analisi, ma veniamo ai mercati. Dicevo, che cosa è successo? È successo che l'Eurostox ha sì superato, l'aveva già fatto nei giorni scorsi, per ora ha confermato i massimi di fine aprile, inizio maggio. Non vi do i livelli perché domani c'è il rollover, cioè si passa sui futures alla scadenza successiva. I futures li seguiamo anche se facciamo i mercati azionari e quant'altro, per avere un quadro generale. E quelli che seguiamo sono quelli di Eurostox e DAX, domani ci sarà il rollover, quindi si passa alla scadenza dicembre. S&P 500 e Nasdaq, che hanno già fatto il rollover sulla scadenza successiva. Il FIB, che fa il rollover domani. Quindi parliamo di aree più che di livelli precisi, perché c'è il periodo classico di riaggiustamento appunto degli stessi. Voi prendete sull'Eurostox i massimi, questi qui di fine aprile, inizio maggio, filtrati con quelli di giugno perché aveva fatto qualche tic sopra e per questo la linea verde è lì un pochino più in alto. Li aveva superati e la vera conferma della positività viene solo quando e se supereremo i massimi, questi qui che aveva fatto segnare in luglio. Li aveva quasi raggiunti oggi in intraday sulla decisione ABC, ma la giornata è ancora lunga, vediamo come chiuderà la barra daily, però vedete che c'è stato un pochino di rigetto e quindi al di là delle decisioni, al di là delle reazioni, rimaniamo oggettivi, rimaniamo neutrali fino a quando l'Eurostox non supererà questi livelli, la conferma di positività mancherà. Parallelamente c'è una divergenza con il DAX perché appunto massimi di fine aprile, inizio maggio che sul DAX non sono ancora stati superati, eccoli qui, quindi li andate poi a ritrovare sui vari strumenti e che oggi, similmente ai massimi questi di luglio sull'Eurostox, hanno in qualche modo fermato la corsa rialzista che ha seguito non solo quello che è successo durante l'inizio di settimana e settimana scorsa ma anche e soprattutto in seguito alle decisioni della BCE. Quindi attenzione perché questo livello importantissimo, massimi di fine aprile, inizio maggio, non è stato superato dal DAX e in questo c'è una divergenza palese con l'Eurostox che invece li ha superati. Quindi attenzione, due elementi importanti. Uno, l'Eurostox, vera positività, deve superare i massimi di luglio e in parallelo si deve risolvere in senso positivo o negativo la divergenza con il DAX cioè andare a vedere chi dei due ha ragione rispetto ai massimi di fine aprile, inizio maggio che, ripeto, sull'Eurostox sono filtrati appena appena più in alto con qualche tic in più con questi massimi che aveva fatto segnare nel mese di giugno. I mercati americani, anche loro, ha un passo da questi massimi addirittura nel caso del S&P 500 che sono massimi storici, con un bull market che dura dal 2009, quindi da più di 10 anni e che ancora rispetto alla BCE c'è stato uno spunto rialzista che però si è un pochino fermato proprio a un passo dai massimi storici che sono in area 3025, ma anche qui attenzione vari rollover e quant'altro massimi di tutti i tempi, facilissimi da ritrovare quindi vera positività solo sopra gli stessi siamo sopra i massimi di fine aprile, inizio maggio ve li faccio vedere che restano un riferimento anche sugli indici americani l'S&P 500, similmente all'Eurostox, vedete i massimi di fine aprile, inizio maggio sono filtrati verso l'alto con i massimi fatti segnare in giugno qualche tic più in alto, siamo stabilmente al di sopra degli stessi ma non abbiamo ancora superato quelli storici quindi questa è un po' la tematica per l'S&P la divergenza con il Nasdaq non c'è nel senso che il Nasdaq è sopra i massimi di fine aprile, inizio maggio quindi uguale a quello che vediamo sull'S&P 500 lo vediamo anche sul Nasdaq, è un pelo più lontano dai massimi storici quindi manca quella divergenza importante che invece c'è tra DAX ed Eurostox 50 però i massimi di fine aprile, inizio maggio filtrati con i massimi di giugno per quanto riguarda l'S&P 500 restano super importanti anche per il Nasdaq quindi l'S&P 500 e Nasdaq così come tutti rimangono in uno stato diciamo di positività finché rimarremo sopra gli stessi o quando andremo nel caso del DAX sopra gli stessi massimi fino aprile, inizio maggio quindi da risolvere questa divergenza e la conferma definitiva che verrà solo se e quando raggiungeremo e supereremo i massimi storici ovviamente su tutti gli indici quindi qualche elemento di cautela è palese, basta vedere appunto la reazione alle decisioni della BCE inizialmente grande euforia ora un pochino di ripensamento e quindi come dicevamo prima della riunione ripetiamo ora attenzione perché diciamo non è per ora tutto oro quello che luccica anche se ripeto come abbiamo detto anche con Paolo Belvederesi e giustamente durante lo speciale Pino di Borsa dedicato alla BCE che vi consiglio di riascoltare perché sicuramente è stato molto molto interessante o di ascoltare se non l'avete ancora fatto non si combatte mai la banca centrale quindi non ci si mette mai contro le banche centrali però qualche elemento di cautela è assolutamente dovuto volevo farvi vedere anche il nostro FIB l'indice italiano perché anche lui ha festeggiato tra virgolette superando i 22.000 il livello col quale da qualche giorno lottava adesso a 22.070 mentre parliamo dopo aver fatto un massimo a 22.120 diciamo che per il FIB comunque la soglia fra bello e cattivo tempo rimane massimo fino ad aprile di sommaggio cioè 21.500 ben superati nelle giorni scorsi finché rimaniamo lì sopra rimane una positività che sarà confermata solo se supereremo i massimi di luglio un po' come con l'Eurostox e gli altri quindi siamo ancora un pochino lì nella terra di mezzo il FIB ha sempre sovraperformato gli altri ma oggi no nel senso che guardate i massimi di luglio vedete la distanza non li ha propriamente né raggiunti né scalfiti così come invece ha fatto l'Eurostox ve lo faccio rivedere che oggi ha un pochino sovraperformato anche il mercato italiano che è stato un pochino più cauto vediamo comunque e rimaniamo in attesa della chiusura della giornata di oggi giovedì sarà mio dovere aggiornarvi come sempre e diciamo in modo tempestivo sul canale Telegram quindi continuate a seguirlo e poi sugli altri social via via in modo da dare a tutti la possibilità di seguirvi ma in modo più veloce è quello del canale domani avremo la gara e il campionato che si svolgerà per tutto il giorno a partire dalle 9 di mattina e ripeto sarà mio dovere aggiornarvi su quello che succede una esperienza sempre interessante sono più di 10 anni che sono a Parigi per questi appuntamenti e sicuramente è una delle cose che rende bello se volete ma anche di grandi soddisfazioni appunto il mio lavoro ci sarà con me Rob Hoffman dagli Stati Uniti Davide Biocchi e tantissimi altri trader da tutto il mondo e domani avrò modo di parlarvene nel frattempo grazie a tutti continuiamo a seguire i mercati facciamolo come detto con estrema cautela ma come vedete il metodo prosegita tutti gli elementi per intuire con anticipo senza fare previsioni come detto per dire l'avevo detto ma solo perché utili nel senso di sviluppo di quelle che sono le tematiche di mercato ci aiuta a diciamo perlomeno non sorprenderci mai troppo rispetto a quello che accade quindi di nuovo grazie a tutti e ci sentiamo prestissimo perché le novità sono davvero tante grazie a tutti